Ciao a tutti, mi chiamo Alvin Sartore, frequento il corso European Computer Science dell'Università di Venezia. Questo corso vi permette di svolgere i primi due anni nell'università d'origine, nel mio caso Venezia, e il terzo anno in un paese straniero europeo che potete scegliere voi all'interno dei paesi che partecipano con i corsi. Io ho scelto la Spagna e adesso sono a Burgos e sto svolgendo il mio ultimo anno di università. Secondo me è un'esperienza molto bella perché vi permette di fare nuove esperienze, viaggiare molto, conoscere nuove persone. Io personalmente mi sono trovato molto bene, la città è molto bella, l'università è organizzata molto bene e i corsi sono molto interessanti. Secondo me è un'esperienza che tutti dovrebbero provare.